Adesso dobbiamo anche pensare a guardare avanti perché abbiamo di nuovo Modena, fortunatamente, in una partita ancora più importante, quindi sarà importante nei prossimi giorni riuscire a lavorare, riuscire a sistemare alcune situazioni fisiche che in questo momento ci pesano e soprattutto affrontare la partita di sabato prossimo con un altro tipo di atteggiamento, con molta più determinazione e aggressività. Sabato ci sarà la semifinale di Coppa Italia, vi affronterete a Bari? Sì, sarà sicuramente una partita diversa, sappiamo che l'Ube è favorita di questo campionato, è di Coppa, è campione d'Italia in carica, hanno veramente una squadra coperta di altissimo livello su tutte le posizioni e noi cercheremo di andare a Bari e dare il meglio possibile in campo per qualificarci per la finale. L'appuntamento a sabato prossimo per una sorta di rivincita che conterà però moltissimo perché è la semifinale di Coppa Italia. Questa è una partita di scudetto, adesso pensiamo alla Coppa, è totalmente differente, sarà una partita differente soprattutto che giochiamo a Bari, peccato che oggi non abbiamo vinto perché il palazzetto era pieno, mi dispiace per i tifosi ma abbiamo fatto il massimo e spero che la settimana prossima sarà più bella. Contro una squadra che secondo me è ancora la più forte, la favorita e dobbiamo essere molto bravi per provare di vincere ancora.